Ciao ragazzi e bentornati qui su Relax. Allora, Elden Ring. So che sul primo canale abbiamo fatto una review, ma questo sarà un video molto più intimo, meno istituzionale. Non è che il primo canale sia una recensione super istituta, però diciamo, sarà una cosa un po' più intima, perché tra l'altro sul primo canale abbiamo parlato di Elden Ring in maniera molto larga, cioè ci siamo basati sulla nostra esperienza in prima persona, ma anche sull'esperienza di Rocco, di Paolo, anche sull'esperienza della mia compagna. Io ho visto la sua run, ho visto la run insieme a Nicola, ho visto la mia, Paolo e Rocco ci hanno dato delle clip dalle loro run, insomma, raga, abbiamo esplorato sia in prima persona, perché abbiamo portato a termine il gioco, ma anche un po' con altri pareri, altri input, questo gioco. E quella review, per farla venire più completa possibile, l'abbiamo portata avanti così. Però qui vi racconto proprio la mia run, e vi racconto anche il mio dolore, un dolore grande, purtroppo, per come è andata con questo gioco. Allora, sappiate che su questo canale usciranno 50 gameplay, 50-51, 52, più di 50 sicuramente, quindi ne avrete fino all'anno prossimo sostanzialmente. A un certo punto però ho smesso di registrare. Ho smesso di registrare per due motivi. Uno, perché erano veramente tanti, e due, perché ho iniziato a pensare, ok, non riuscirò a fare una seconda run su questo gioco, perché a un certo punto ho perso le speranze di fare una seconda run. All'inizio ci pensavo, dicevo, ok, adesso lo finisco così, faccio la blind, no? Su YouTube, poi mi faccio NG+, seconda run. A un certo punto ho cominciato a capire che una seconda run non l'avrei mai fatta, probabilmente, e anche adesso che ho finito il gioco, io ho paura a premere sul tasto inizia seconda partita. Cioè, ho proprio paura, perché... Non è stata un'esperienza del tutto positiva, mettiamola così, da metà gioco in poi. Se si può parlare di metà su un gioco come Elder Reign si capisce mai qual è la metà, qual è la fine, però diciamo sì, dalla capitale in poi, dai, mettiamola così. E quindi ho deciso di giocare senza registrarmi per poter giocare in maniera un pochino più completa. Completa significa che se vedi un oggetto su una balaustra e non ci sai arrivare, non ti fai alcun problema a passare un'ora a acchiappare questo oggetto. E magari poi non ci riesci, ma non fa niente. Se tu hai provato, basta. Ci sono un paio di gameplay dove giro a vuoto, proprio giro a vuoto, cercando di fare delle cose e non c'è modo di farle. Quindi preparatevi, perché vi romperete i coglioni, me ne scuso, fin da adesso. Però a un certo punto ho detto, ok, no, lo gioco da solo, senza la distrazione. Anche perché molto spesso mi capitava, e lo vedrete, che tutte le volte che facevo una cosa off camera, poi mi riusciva. Quindi diversi boss li ho uccisi off camera. Volevo semplicemente imparare il moveset, però c'è scappato il morto. E questo perché probabilmente parlare con voi mentre gioco Elden Ring mi portava via troppa energia mentale, non lo so, performavo molto meglio a camera spenta, ecco. E a un certo punto ho detto, no, vabbè, basta. Tanto ho fatto 50 gameplay, Gesù Cristo, sono tantissimi. E sono andato avanti da solo. Quando ho preso la consapevolezza, tra l'altro, che non avrei mai, e poi mi ha fatto una seconda run, ho detto, no. Faccio questa e basta. Ho fatto una cosa che io non faccio mai nella vita. Ho guardato le guide. Questa è una cosa che avevo fatto soltanto in Sekiro, per sbloccare dei finali alternativi. È arrivato alla nona run, decima run. Non sapevo come sbloccare questi finali, e ho guardato le guide. E grazie a Dio, perché da solo non ci sarei mai arrivato, dovevo andare nel posto X in un particolare momento della campagna, mettermi dietro un muro, ascoltare, sentire, poi andare, era impossibile arrivarci per intuito, quindi ho fatto bene a guardare una guida, e devo dire che anche con Elden Ring molte cose non le avrei mai scoperte senza guida. Forse alla terza, quarta run sarei finito in certi posti, o ci sarei finito nel momento giusto, però, insomma, ho fatto bene a guardare le guide. E lo ammetto, potrei dirvi di no, perché molti lo fanno. No, you first try. Come volete. Io ho guardato le guide, anche perché non riuscivo a seguire la narrazione. Io ho finito quasi tutte le quest che ho finito a caso. Tranne la quest di Runny, che tra l'altro l'ho finita grazie a una guida, perché mi ero proprio bloccato. Tutte le altre quest che ho finito le ho finite a caso. Cioè, pertanto io mi scordavo, mi scordavo di quello che mi dicevano. Non essendoci un questlog, io venti ore dopo, a me non mi ricordavo neanche chi cazzo fossero. Sapete quante volte ho trovato un NPC? Mi sono avvicinato. Oh, ma chi è questo? E poi magari scoprivo che ci avevo già parlato, perché avevo esaurito le... Il problema di Elden Ring, dal punto di vista proprio del mio rapporto con il gioco, è in buona parte di natura narrativa. Cioè, io non riesco ad affezionarmi a nessuno e a niente in Elden Ring. Tu mi puoi parlare di Michela, di Godfrey, di Malenia, di Morte, di Fia. Tu mi puoi parlare di tutti questi. Però per me quello che loro dicono è una strana, incomprensibile mitologia che nulla ha a che fare con i sentimenti, con le emozioni. C'è un motivo se dopo tanti anni, io ancora mi ricordo dei passaggi di The Vanishing of Eden Carter, c'è un motivo se ancora oggi, se chiudo gli occhi, rivedo la morte di uno degli abitanti della casa di What Remains of Eden Finch. Certi giochi mi rimangono dentro e basta poco, bastano due inquadrature, una frase. In Elden Ring, io vi giuro, ragà, andavo in giro per il mondo solo come un cane, circondato di persone che parlavano dei cazzi loro e a me non fregava nulla. Non riesco proprio ad appassionarmi a questa narrazione. Di contro, ogni tanto mi guardo, non sempre perché sono tantissimi, però ogni tanto mi guardo un gameplay di Sabaku. A volte Sabaku è Saidonia e li vedo trasalire di fronte a certi dettagli, certe frasi, li vedo immaginare scenari, speculare. Vorrei avere un decimo del loro entusiasmo, ma la verità è che una narrazione di questo tipo non sveglia nulla in me, nulla. Per questo non sono riuscito neanche a concludere volontariamente le quest più semplici. Le ho concluse perché, bene o male, a volte se vai dappertutto, picchi tutti e parli con tutti, prima o poi qualcosa si chiude. Ho concluso la quest di Villa Vulcano senza bisogno di una guida perché era qualcosa di estremamente lineare, molto lineare. Cioè dovevo semplicemente andare lì, accettare queste commissioni, poi mi mettevano un punto sulla mappa, sapete come si fa nei giochi. Andavo lì e uccidevo questi senza luce, ma io ero uno yes man. Cioè io ho portato avanti il gioco dicendo sì a tutti. Sì. Ma ti va di uccidere altri senza luce come... Sì. Ti va di aggregarti al culto delle tre dita? Sì. Mica vuoi pure una fiamma... Com'era la fiamma? Cioè mi sono scordato. La fiamma della frenesi. Vuoi la fiamma della frenesi? Sì, 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 sì. Come no? A un certo punto mi sei incazzata Melina. Quando sono diventato seguace della fiamma della frenesia, Melina sei incazzata. Io immagino che molti prevedessero questa reazione. Io non ne avevo la più pallida idea. Cioè io dicevo di sì a tutti. C'è un NPC che si chiama Varre che ti fa Oh ma sto culto delle due dita? Non ti sembra sospetto? Come no? Sì, sì, sì. Dicevo di sì a tutti. Tanto... Ecco, queste... Non riesco proprio a giocarci. Non riesco a prenderle sul serio queste cose, capito? Godfrey, Offrey, Osbrey, Sgrinsey, Margot, Mirgot, Murgot. Non fa per me, cazzo. Non riesco. Non ci riesco a stare dietro. Ecco, la prima quest che ho fatto con la guida è stata la quest di Varre. Perché questo qua pretendeva che io andassi online. Cioè la sua quest si fa online. Ti dà il dito purulento dei salcazzi. Ti dice, ah, devi usarlo, devi usarlo, sto dito. Devi usarlo. E io dicevo, vabbè. Questo qui, probabilmente la sua quest, è finita. Perché mi ha dato un oggetto che serve per l'online. Quindi. Io l'online non ci voglio giocare. Infatti non ci ho mai giocato. Una volta ho provato a evocare per farmi aiutare. Con un boss. È stato così frustrante. Aspettare. Vedere questo tizio che era peggio di me. Dalla fine ci ho rinunciato. Ho detto, vabbè, ma non evoco sti cazzi. Sì, infatti a un certo punto mi sono fatto la lacrima riflessa. Che è la tua copia sputata. L'ho maxata proprio. Ci ho investito ore e ore per portarla al massimo livello. E da lì in poi mi sono fatto aiutare da me stesso. Dalla mia copia talmente tanto maxata che giocavo meglio di me. E la quest di Varre era... Vai online. Cioè... Invadi. Vai. E io... Sapete perché alla fine l'ho fatta la quest di Varre? Perché avevo scoperto che c'era sta zona di farming, no? Ne parlavano tutti. L'uccello, l'uccello. C'è questa zona dove c'è un uccello che si butta da un precipizio. Tu gli dai una botta di freccia. E lui per venirti addosso si schianta in fondo a sto precipizio. Se sei baffato da quel punto di vista, dal punto di vista dell'ottenimento delle rune, becchi 14.000 rune. Che a un certo punto del gioco sono un sacco. Attualmente sono niente. Per salire un livello dove sono adesso mi servono 320.000 rune. È folle. E ogni livello mi alza un cazzo di statistiche. L'inizio è molto meglio da questo punto di vista. Comunque, ho fatto quella quest con una guida. Perché non avevo idea che dovessi usare il dito tre volte. L'ho usato una volta, non succedeva un cazzo. Invece dovevo usarlo tre. Non l'avrei mai usato tre volte, ve lo dico. Senza guida non sarei mai arrivato a chiudere la quest di Varré. E così come quella ci sono altre quest che non avrei mai chiuso senza guida. Quindi, no, non mi vergogno per niente di dirlo perché mai e poi mai sarei riuscito a star dietro alla narrativa del gioco. Quindi ben vengano le guide che mi hanno fatto anche scoprire dei posti molto belli che forse non avrei trovato. A un certo punto ho cominciato anche a patire proprio il gameplay oltre che la narrazione. Dalla Capitale in poi a me ha fatto schifo anche il gameplay, devo essere onesto. Sia il level design. Io alla Capitale veramente non sapevo uscire. Avevo ucciso tutti, avevo tritato il boss, avevo fatto tutto. Non sapevo uscire dalla Capitale. Ma veramente. Avevo tirato una leva ma non sapevo cosa avesse attivato. Veramente, ragazzi, a un certo punto ho cominciato proprio a perdermi, a perdere la voglia di esplorare tutto. Perché la Capitale mi aveva stremato. La Capitale e le fogne mi avevano stremato. Non avevo più voglia di stare lì a guardarmi intorno. Volevo soltanto andare avanti. Ti prego, fa che crolli un muro e io possa uscire dalla casa. Fa che si baghi il personaggio e passo oltre. È stato così. La sensazione è stata orribile dopo la Capitale. Ed è soltanto peggiorata. Più andavo avanti, più peggiorava questa sensazione di è tutto troppo, è tutto sbilanciato, porca troia. Fino a due ore fa ero forte. Io a mid-game ero veramente forte. Mi dovevo impegnare, ma menavo. Mi menavano il giusto. Io menavo il giusto. Dalla Capitale è stato... E non c'è stato mai un Oh, ok, adesso sono salito. Mai più. Sono stato sempre sottodimensionato rispetto a qualsiasi avversario. Qualsiasi. Qualsiasi. Ma io non sono bravo a farmi le strategie con le build, con i buff. Sono d'accordo. Non mi sommettere quel pezzo di armatura che mi dà il 20% in più, che mi scala sull'arma, che mi porta, che è in mercato mio padre. Non sono bravo a fare queste cose. Lo so. Però che cazzo. Ho un'arma maxata più che si può. Ho l'armatura che, da stessa dichiarazione del gioco, è quella che ti dà più protezione. Ce l'ho addosso, quell'armatura. E niente, oh. Cioè, comunque ti one-shotano. O comunque ti danno un colpo che ti stanno a rimanere incognolito mezz'ora e indovina che ti arriva subito dopo il secondo colpo. Quindi per me t'hanno one-shotato. Ecco. Arriva da un certo punto, ho provato soltanto molto dolore. E l'ultimo boss, cazzo, è... C'è una gelatina di frutta con dentro le luci di Natale. Fa schifo pure il design del Beast. Fa schifo tutto di quel boss. Tutto. Io ho finito Sekiro conoscendo benissimo il moveset di Shina Shina, l'ultimo avversario. Ogni sua mossa, per me, aveva un perfetto schema di contrattacco, contromossa, parata. Era diventato un gioco molto tecnico verso il finale Sekiro ed io l'avevo abbracciata questa cosa. Ho bestemmiato la Madonna, ho tirato giù i santi, gli apostoli, gli angeli. Tutto documentato perché abbiamo portato la serie intera su Sekiro. Ma quando finalmente ho ucciso Shina Shina, non ho provato sollievo. Ho provato soddisfazione. Perché avevo giocato bene, perché ero stato freddo, perché ero stato lucido fino alla fine. Quando ho ucciso l'elden Beast, l'unica cosa che ho sentito è stata Cazzo, ma con una botta di culo così non potevo vincere al Super Enalotto piuttosto. Non ho sentito di aver merito in quello che avevo fatto. Semplicemente c'era stata una tot sequenza di attacchi che per puro caso non avevano colpito me, ma il mio Mimic. C'era stata una sequenza di colpi che avevo dato io e aveva dato la mia lacrima riflessa che l'avevano stannato a un certo punto, dandomi un minimo di vantaggio. Alcuni dei suoi attacchi col fumo viola, che pensavo mi avessero preso e in realtà non mi avevano preso, perché io l'hitbox del fumo ancora non l'ho capita nei giochi. Il fumo. Come cazzo faccio a capire se mi sta a prendere, se non mi sta a prendere, se devo schivare, se devo par... Non si capisce un cazzo. Quel boss fa schifo. È un fottuto fuoco d'artificio senza hitbox. Non ce le ha le hitbox. È lui una gigantesca hitbox. Fa degli attacchi ad area che coprono tutta l'arena, tutta l'arena. Tu devi fare delle corse campestri di 40 metri per tirarti fuori dall'area di influenza di quegli attacchi. Devi saltellare come un coniglio. È una merda quella boss fight. Io sono sicuro, 100-100, che dovesse essere fatta con il cavallo, ma From si è scordata di rendere attivo Torrent. A un certo punto si è vergognata di patcharla, quella cosa, perché era vergognosa che non l'avessero fatto, e l'ha lasciato così. Tanto con From il problema sei sempre te che giochi. L'appassionato ti dirà No, no, se From l'ha fatto, allora è perché si può fare. Io ma ve lo dico, secondo me questi non hanno mai testato il gioco. Le statue di Marika le hanno aggiunte 5 minuti prima di rilasciarlo. Sono sicuro, perché sono tutte uguali, stanno buttate così in giro, ogni volta che si sono resi conto che la grazia era lontana, ci hanno messo sta statua di Marika. Ogni volta. Sono sicuro che sia stata una situazione di ripiego dell'ultimo momento. Così come sono sicuro che le zone dove non puoi andare con Torrent siano state messe a cazzo di cane, perché sono arbitrarie. Cioè non c'è un motivo vero per cui tu non puoi andare con Torrent. Dentro un castello capisco, dentro un castello, dentro una grotta, capisco. Nella capitale. Ma perché? Perché? Perché non puoi andare con Torrent? Ci sono strade enormi, tetti sui quali sarebbe bello saltare. Niente, Torrent non lo puoi usare. Qui puoi evocare, qui no. Guardate, raga, in qualsiasi altro gioco gli avrebbero fatto un culo così agli sviluppatori per una soluzione così arbitraria, così stupida. No, è From, quindi si lascia fare. Un gioco così sbilanciato, che tu passi da essere Superman a essere niente nel giro di cinque metri nella mappa non l'avevo mai visto. Qualsiasi altro gioco avrebbe passato i guai. Ora dico, tu vuoi fare un open world. Tu non vuoi fare il solito gioco a tunnel. Ok? Ci sta. Ma prenditi le tue responsabilità. Crea un sistema di valori che non sia statico. Perché se no, poi, siccome sai che devi fare un sistema di valori statico, per paura che il giocatore arrivi troppo forte alla fine, tu sei costretto a dare 18 milioni di punti vita al boss, dargli un damage out di 60 mila, sei costretto a fare queste cose. Se fosse stato un sistema dinamico, il giocatore avrebbe potuto affrontare veramente la sfida a proprio piacimento. Veramente. Invece così, sì, è open world, ma col cazzo che vai a Kelly dall'inizio. Sì, è open world, ma... Cioè, un gambero di liurnia. No? Se tu ci arrivi all'inizio, ma ti sfonda, ti distrugge. Tu uccidi Margit, ok? Un boss, fino a prova contraria. Uccidi Godric, un altro boss, fino a prova contraria. Vai dal gambero, ti sfondi. Un gambero. Un gambero. che poi lo uccidi, madonna, quante rune mi darà? Tremila, seicento. Cioè, fammi capire, un troll nella prima fase di gioco ti dà mille rune, che tra l'altro se li fai litigare tra di loro si menano a vicenda. Ne fai quattromila, cinquemila. Il gambero, che è una boss fight, io vi dico, anche adesso che sono in endgame, il gambero è impegnativo. Io a livello 209, con un gambero, la guardia abbassata, non ce l'ho. 600 rune. Cioè, a me sarebbe piaciuto un gioco meritocratico. Nel drop delle rune, nell'avanzare dei livelli, cioè, nelle armi. Nelle armi, Cristo! Nelle armi. Io non ho mai avuto, in tutta la durata della mia campagna, la soddisfazione di uccidere un boss stostissimo e droppare un'arma, uno che potessi usare, perché erano tutte quante armi che non potevo usare, ma metti caso che l'avessi potuta usare, sarebbe stata comunque inferiore alla mia stronzissima katana di inizio gioco portata al massimo. Cioè, veramente, non ho mai avuto la soddisfazione di droppare un'arma e dire cazzo, adesso sì. No. Mai. Poi erano armi che non potevo neanche migliorare, alle quali non potevo neanche mettere io le ceneri, avevano le loro ceneri, erano già maxate, praticamente. Cioè, è follia, capite? Come cazzo fanno a dire che è bilanciato sto gioco? Come? In che modo? Puoi cambiare le statistiche, sì, usi la lacrima di larva, sì, tra l'altro, ragà, si farmano, perché c'è una zona nel sottosuolo in cui ci sono delle palle gigantesche. Se tu gli meni ti danno le lacrime di larva, ste cazzo di palle, te le danno a Yosa. Quindi ho cambiato statistiche, non so quante volte, ancora ce ne ho tipo sette da parte di lacrime. Quindi, puoi fare quello, però, non puoi portarti tutte le armi che vuoi al massimo, non puoi. Cioè, la mia katana, che sto usando in endgame, aveva bisogno di una pietra da forgiatura, funerea del drago, cosa al cazzo? Cioè, un oggetto specifico, non è la pietra più sette, più otto, che in endgame le trovi te buttano dietro, è un oggetto specifico, non ti cade dall'albero. E tu mi dirai, vabbè, non fa niente se non la maxi, ma la alzi. No, la voglio maxare, cazzo! Voglio il massimo da quell'armamento, anche perché molti armamenti di inizio gioco continuano ad essere più forti degli armamenti che droppo alla fine. La mia prima katana, che l'ho portata a livello 25, quanto cazzo l'ho portata io, è comunque ancora la quarta arma più forte del gioco per me. La quarta arma più forte. Perché poi alla fine c'ho la mia luna velata, questa katana pazzesca, gli ho messo la pietra del drago in culo. Però, raga, cioè, se io ammazzo Maliket, la lama di merda, come si chiama lui, a fare un mazzula, che è una boss fight che ti togli i coglioni, te li infila nelle orecchie, io voglio droppar qualcosa di buono, droppo un'armatura, che fa più cacare dell'armatura di Radan. È bellissima, ma fa cacare. Che arma droppo? Un'arma che fa metà dei danni della mia katana di early game. Ma come cazzo? No. No. Per me, ragazzi, queste cose sono... come fai a fare un'arma del genere quando sai che alla fine del gioco io devo battere un boss che c'ha 40 milioni di punti vita e che mi fa... ogni colpo che mi dà mi toglie 20 mila. Come... come fai a farmi in endgame droppare un'arma che, sì e no, mi ammazza un gambero con cinque colpi? Come? Un gambero con cinque colpi? Come? Questa è stata la mia partita su Elden Ring. Mai una gioia. Le gioie sono state tutte esplorative. Uh, che bello sto posto. Uh, che bello quest'altro posto. Uh, che schifo sto nemico. Uh, che bella questa soluzione di... di game design. Ogni tanto ci sono belle soluzioni, ma già viste in Dark Souls, tra l'altro, eh. Nulla di nuovo, eh. Solite soluzioni con i balestrieri che ti bloccano da lontano, te che ti devi ingegnare come se ti stessi difendendo da un cecchino. Però, alla fine della fiera, raga, il gioco, secondo me, dove ha a finire... ma forse, ma prima, prima della capitale doveva essere così il gioco. Doveva essere bilanciato così. Mi dispiace, probabilmente molti mi diranno non è vero un cazzo quello che dici, perché l'arma che droppi c'ha la... Raga, se volete vi faccio vedere la mia ruota delle armi, con tutte le armi, vi faccio vedere che puoi droppare quel cazzo che ti pare. Ultimamente ho droppato l'arma della quest più complessa del mondo, la quest di Ranni. È un'arma di merda, pesante a morire, che mi fa andare in Fatal, che fa un terzo del danno che fa la mia prima katana. Ma dai! Ma dai! Ma come cazzo ragioniamo? Forza! No! No! È un buon gioco Elden Ring, c'ha tanto di buono. Però secondo me From doveva farlo usci fra due anni, sto gioco. Cioè, non... Non l'hanno provato, cazzo! Non l'hanno mai provato! Sono così impegnati a pacciare tutte le zone di farming che non si rendono conto che il gioco non l'hanno nemmeno testato in tante cose. Non l'hanno testato. Comunque ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Scusate lo sfogo, però vi dovevo raccontare queste cose, perché sennò sembra che... che siamo dei trattori a caso. Invece sono veramente amareggiato, soprattutto dopo Sekiro. Sekiro è uno dei miei giochi preferiti di sempre, anche se anche lì la narrativa mi fa schifo. Però come gameplay, è uno dei miei giochi preferiti di sempre. E intendo da quando ero bambino. Da quando ero bambino e giocavo ai cabinati e duravo 5 secondi e spendevo 200 lire, 100 lire per giocare quei 10 secondi ed era il momento più bello della mia giornata. Da allora fino a oggi che ho 38 anni quasi, uno dei giochi più belli che abbiamo mai giocato per me è Sekiro. E mi fa molto male vedere che Elden Ring non è riuscito a raccogliere quell'eredità. Era difficile, me ne rendo conto, ma tant'è. cioè Elden Ring è difendibile solo da chi ciecamente guarda avanti e dice no, From non sbaglia mai un colpo.